Ciao ragazzi, benvenuti a questo video. Primo video del 2023. Siamo qua per l'appunto presso il poligono di Apitaxito in Broni Pavia. Se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale, se il video ti piace lascia un like e condividi per rimanere così sempre sintonizzato ed aggiornato sulle novità che pubblicheremo proprio qua sul canale. Gestione di un malfunzionamento. Ok, tap, rack, bang. Mal funzionamento, autoratore, chiuso. Che cosa facciamo? Tap, facciamo un rack e ringaggiamo di nuovo il nostro bersaglio. In questo caso abbiamo invece uno stovepipe. Allora, stovepipe, double feed e ogni tipologia di malfunzionamento, autoratore e semi chiuso io personalmente lo tratto in questo modo. Apro l'otturatore, tolgo il serbatoio, libero la camera di cartuccia, rinscrivisco il serbatoio, verifico, rimetto il colpo in canna e poi ringaggio di nuovo. Io spero che questo brevissimo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lascia like, non vivere di indifferenza, condividi il video, iscrivetevi al canale e soprattutto visitate il sito www.apitac.it per iscrivervi ai nostri corsi e imparare sicuramente a non ricaricare da noi ma imparare magari a gestire l'arma in sicurezza in modalità prettamente difensiva. Io sono Alex Pineschi e Pirineschi vi ringrazio e come dico sempre, keep it real. Ciao!